vi dico che è incredibile e raccontalo ugualmente va bene ma prima mi sembra giusto ricordarvi che la mia storia è vera in ogni particolare anche se pare inverosimile soltanto i pittori non se ne stupiranno specie gli anziani coloro che hanno conosciuto quell'epoca di tensioni terribili quell'epoca in cui il gusto dello scherzo era così radicato da non lasciarci neanche nei momenti più gravi il vecchio artista si sedette a cavalcioni d'una sedia questo accadeva nella sala da pranzo di un albergo di barbisson e gli continuò quella sera avevamo cenato dal povero soriel ora defunto il più arrabbiato di tutti noi eravamo soltanto in tre soriel io e l'epotevain mi pare ma non sono proprio sicuro che fosse lui naturalmente parlo del pittore di marine e eugène l'epotevain anche lui morto e non del paesaggista vivo e vegeto e ricco di talento dire che avevamo cenato da soriel significa che eravamo brilli solamente l'epotevain era ancora padrone di sé anche se un po confuso ma comunque ancora lucido eravamo giovani allora stesi sui tappeti chiacchieravamo senza nemmeno un filo di ragionamento nella cameretta attivo allo studio soriel con la schiena per terra e le gambe appoggiate a una sedia parlava di argomenti bellici dissertava sulle uniformi dell'epoca dell'impero ed un tratto si alzò tolse da un grande armadio una divisa completa da ussaro e l'andossò poi costrinse l'epotevain a mascherarsi da granatiere e poiché quello cercava di opporre resistenza lo acchiappammo e dopo averlo completamente denudato lo infilammo in una gigantesca divisa che lo inghiottì io mi vestì da solo con una divisa da corraziere e soriel ci ordinò di compiere una manovra complicata poi ci mise a gridare visto che stanotte siamo dei soldatacci beviamo come soldatacci preparammo un punch alla fiamma lo buttammo tutto giù poi accendemmo ancora una fiammella sotto la caraffa tonda piena di rum intanto cantavamo a squarciagola vecchie canzoni quelle che un tempo sbraitavano i veterani della grande armata all'improvviso l'epotevain che era rimasto lucido nonostante le grandi bevute ci fece fare silenzio poi dopo una pausa di qualche secondo disse a bassa voce sono sicuro che qualcuno sta camminando nello studio soriel si tirò su alla meno peggio e cominciò a gridare un ladro che fortuna e subito intonò la marsigliese poi si precipitò su una panoplia ci armò come esigevano le nostre uniformi io ebbi una specie di moschetto e una sciabola l'epotevain un gigantesco fucile a baionetta quanto al soliel non avendo trovato quel che era necessario si impadronì di una pistola da sella che sistemò alla cintura ed un'ascia da bordaggio che prese a roteare poi aprì con precauzione la porta dello studio e il nostro piccolo esercito fece irruzione in territorio sospetto quando ci troviamo al centro dell'ampio locale in gombro di tele di vastissime dimensioni di mobili e di oggetti strani e imprevisti soriel ci disse mi nomino generale teniamo un consiglio di guerra tu colazziere va a togliere al nemico la possibilità d'una ritirata e cioè chiudi a chiave la porta e tu granatiere scortami feci quel che mi era stato comandato poi raggiunsi il grosso delle truppe che stava facendo una ricognizione nel momento in cui li stavo raggiungendo dietro un alto paravento scoppiò un gran chiasso mi slangiai avanti sempre tenendo un candeliere in mano l'epoteven aveva trafitto con la baionetta un manichino mentre a sorelle gli spaccava la testa con l'ascia resosi conto dell'equivoco il generale ordinò prudenza e ripresero le operazioni belliche almeno venti minuti stavamo frugando inutilmente ogni angolo dello studio quando all'epoteven venne l'idea di aprire un grande armadio a muro era buio e capace introdussi la mano che reggeva la candela e subito mi tirai indietro stupito dentro c'era un uomo un uomo vivo che mi stava fissando richiusi subito il battente con due mandate di chiave e tenemmo un nuovo consiglio di guerra le opinioni erano molto discordi soriel voleva tenere chiuso sotto chiave il ladro l'epoteven proponeva di farlo arrendere per fame e io proposi di far saltare in aria l'armadio con polvere da sparo prevalse il parere di l'epoteven e mentre lui montava la guardia col suo fucilone noi andammo a cercare quel che restava del punch e le nostre pipe poi ci sistemammo davanti all'anta chiusa e brindammo al prigioniero dopo circa mezz'ora soriel disse però vorrei vederlo da vicino e se lo prendessimo con la forza io strillai bravo ognuno di noi riprese le proprie armi aprimmo l'anta dell'armadio e soriel armando la sua pistola che era scarica si slanciò per primo lo seguimmo urlando nel buio ci fu uno spaventoso tafferuglio e dopo cinque minuti di aspro combattimento riuscimmo a tirar fuori una specie di vecchio bandito dai capelli bianchi lercio e cencioso gli legammo mani e piedi e poi lo facemmo sedere su una poltrona non apri bocca allora soriel in preda a una solenne sbornia si rivolse a noi e ora giudichiamo questo miserabile ero così ebbro e la proposta mi sembrò più che naturale l'epoteven fu nominato avvocato difensore io pubblico ministero fu condannato a morte all'unanimità con l'eccezione del suo difensore soriel disse adesso giustiziamolo poi ebbe uno scrupolo quest'uomo non deve morire senza i conforti della religione e se andassimo a cercare un prete obiettai che era tardi allora soriel mi propose di fare io le veci del sacerdote ed esortò il criminale a confessarsi sul mio petto da cinque minuti quel uomo faceva roteare i suoi occhi atterriti chiedendosi con quale genere di gente aveva a che fare a quel punto articolò a fatica una frase con voce cavernosa arrocchita dall'alcol state scherzando vero? il sorello costrinse a inginocchiarsi per forza e nel timore che i genitori di lui si fossero dimenticati di farlo battezzare gli versò in testa un bicchiere di rum poi gli disse confessati a questo signore la tua ultima ora è suonata sconvolto quel vecchio furfante si mise a gridare aiuto con tanta forza che fummo costretti a imbavagliarlo per non svegliare tutti i vicini allora si rotolò per terra tirando calci e contorcendosi facendo cadere i mobili e sfondando le tele alla fine saurier che aveva perduto la pazienza urlò basta e prendendo di mira quel poveraccio disteso sul pavimento premette il grilletto della pistola con un secco rumorino il cane scattò tracinato dall'esempio io pure sparai il mio fucile ad acciarino mandò una tale scintilla che mi prese di sorpresa allora le potoven scandì gravemente queste parole abbiamo il diritto di uccidere costui soriel rispose stupito dato che l'abbiamo condannato a morte ma le potoven ribatté i civili non vanno fucilati dobbiamo consegnarlo al boia dobbiamo portarlo al posto di guardia l'argomentazione era giusta rialzammo quell'uomo e poiché non poteva camminare lo legammo solidamente su una tavola per modelli io e le potoven lo portammo in processione mentre soriel armato sino ai denti chiudeva il corteo al posto di guardia della caserma della polizia la sentinella ci fermò mandato a chiamare il capoposto ci riconobbe dato che tutti i giorni aveva assistito ai nostri scherzi e alle nostre incredibili invenzioni e sciocchezze simili e si limitò a ridere e a rifiutarsi di prendere il prigioniero soriel non si dette per vinto e allora quel militare si intimò sicuramente di tornarsene a casa senza fare altro baccano la truppa si rimise in marcia e fece ritorno allo studio io domandai ce ne facciamo del ladro e poterven impietosito sentenziò che doveva essere stanchissimo quell'uomo e aveva davvero l'aria di uno che sta agonizzando così impacchettato e imbavagliato legato alla tavola una gran compassione prese anche me una compassione da ubriaco gli tolsi il bavaglio e gli chiasi allora come va povero vecchio lui gemette ne ho abbastanza porco cane soriel allora diventò paterno lo sciolse da ogni laccio lo fece accomodare gli dette del tu e per tirarlo su di morale ci mettemmo tutti e tre a preparare in fretta un altro punch tranquillo il ladro ci osservava dalla poltrona appena pronto gli demmo un bicchierozzo di punch mi avremmo anche sorretto la testa volentieri cominciammo a bere il prigioniero se ne scolò quanto un intero reggimento appena cominciò ad albeggiare si alzò in piedi e disse con tutta calma li debbo proprio lasciare devo tornare a casa ci rimanemmo male cercammo di trattenerlo ma si rifiutò di restare ancora gli stringemmo le mani e soriel col candeliere in mano fece luce nell'ingresso attento allo scalino sotto il portone ridevamo tutti di gusto attorno all'autore del racconto si alzò riaccese la pipa e concluse piantandosi davanti a noi la cosa più buffa della mia storia è che è vera attorno all'autore del racconto dal pano s divulgro mi collage riacciato fredato size